Benvenuti su Whispers of Wisdom. Oggi parliamo di qualcosa di davvero speciale, qualcosa che potrebbe cambiare il modo in cui vedi te stesso e il mondo che ti circonda. L'empatia. Se sei qui, non è un caso. Probabilmente hai già sentito parlare di empatia, ma quello di cui discuteremo oggi è molto più profondo e personale. Parleremo di uno dei doni più potenti che possiamo scoprire durante il nostro cammino di risveglio spirituale, essere un empatico. Immagina di avere la capacità di connetterti con le emozioni degli altri in modo così intenso da sentirle come se fossero tue. Non è solo comprendere qualcuno, è vivere il loro dolore, la loro gioia, la loro confusione, come se fossero le tue stesse emozioni. Questo è il cuore pulsante dell'empatia. E oggi esploreremo insieme i segni che potrebbero indicare che anche tu hai questo dono straordinario. Ma prima di immergerci in questo affascinante viaggio, voglio chiederti un piccolo favore. Se ami questi temi, se vuoi continuare a scoprire con me le meraviglie del risveglio spirituale, iscriviti al canale Whispers of Wisdom. Attiva la campanellina per non perdere nessuno dei prossimi video. E se questo contenuto ti tocca nel profondo, lascia un like. Questo piccolo gesto aiuterà il canale a crescere, permettendomi di portarti sempre più contenuti di qualità. Ora, sta per iniziare un viaggio che ti porterà a scoprire se sei davvero un empatico, un dono raro che ti permette di connetterti con l'essenza stessa delle persone intorno a te. L'empatia è una forza potente, e uno dei primi segni che potresti essere un empatico è la tua capacità di sentire profondamente le emozioni degli altri, come se fossero le tue. Non si tratta solo di simpatia o di comprensione superficiale, ma di un'esperienza molto più profonda e intima. È come se le emozioni altrui trovassero una via diretta verso il tuo cuore, senza filtri, senza barriere. Quando sei in presenza di qualcuno che prova una forte emozione, che sia gioia, dolore, rabbia o tristezza, non puoi fare a meno di sentirla anche tu. Non è una scelta, è una condizione naturale del tuo essere. Potresti trovarti in una stanza piena di persone e, senza neanche volerlo, percepire un'inquietudine latente, una tristezza nascosta, un'esplosione di felicità. Queste emozioni si riversano su di te, come un'ondata che ti travolge, lasciando a volte confuso, a volte esausto. Immagina di essere seduto accanto a una persona cara che sta attraversando un momento difficile. Anche se questa persona non dice nulla, tu senti il suo dolore, quasi come se fosse il tuo. Potresti percepire il peso delle sue preoccupazioni sul tuo petto, il nodo alla gola che fatica a sciogliersi. È una connessione così profonda che a volte può essere difficile distinguere tra ciò che è tuo e ciò che appartiene all'altro. Questo dono può essere meraviglioso, perché ti permette di essere veramente vicino agli altri, di offrire conforto e comprensione in un modo che poche persone possono fare. Ma può anche essere una sfida. Assorbire continuamente le emozioni degli altri può lasciarti esausto, emotivamente prosciugato, come se portassi sulle spalle il peso del mondo intero. Essere un empatico significa vivere ogni giorno in un mondo di emozioni amplificate, un mondo che a volte può essere travolgente. Ma è anche un mondo di straordinaria bellezza, perché ti permette di vedere e sentire la vita in modo intenso e profondo, di connetterti con l'essenza stessa delle persone che incontri. È un dono raro e potente, uno che richiede cura e consapevolezza per essere gestito al meglio, ma che può anche arricchire profondamente la tua vita e quella di chi ti circonda. 2. Gli ambienti affollati ti stancano? Gli ambienti affollati sono spesso un campo di battaglia invisibile per chi è empatico. Immagina di camminare in una strada piena di gente, magari durante un mercato o in una stazione affollata. Ogni persona che incroci è come una piccola onda di energia che ti colpisce, e per un empatico, queste onde non si sommano semplicemente. Si sovrappongono, si amplificano, si trasformano in un mare tumultuoso che ti travolge senza tregua. Essere in mezzo alla folla può diventare un'esperienza estenuante, non tanto fisicamente quanto mentalmente ed emotivamente. Non stai solo navigando tra i corpi, ma stai anche nuotando attraverso un oceano di emozioni, intenzioni e stati d'animo. Ogni sguardo, ogni espressione facciale, ogni gesto porta con sé un frammento di vita di quella persona, e tu, senza volerlo, ti ritrovi a percepire tutto. L'energia che circola in un luogo affollato è intensa, spesso caotica. C'è la fretta di chi corre per non perdere un treno, la frustrazione di chi è intrappolato nel traffico umano, la gioia di chi si ritrova con un amico dopo tanto tempo, la tristezza di chi cammina solo con la mente persa nei propri pensieri. Per una persona empatica, tutto questo è amplificato, perché ogni frammento emotivo non rimane semplicemente esterno, ma trova una via d'accesso al tuo mondo interiore. Questo può portare a una profonda stanchezza. Non è solo il rumore o il movimento incessante delle persone, ma è la fatica di portare con sé tutte quelle energie diverse. Dopo un po', potresti sentirti svuotato, come se ogni goccia della tua energia fosse stata risucchiata, lasciando con un bisogno quasi urgente di ritirarti, di trovare uno spazio di pace e silenzio dove poter ritrovare te stesso. Questo ritiro non è un atto di debolezza, ma di necessità. Gli empatici, dopo essere stati esposti a così tante energie diverse, devono ricaricarsi, devono liberarsi di ciò che hanno assorbito per poter tornare a sentire la propria energia, il proprio centro. Spesso, questo processo di ricarica avviene in solitudine, o in mezzo alla natura, dove le energie sono più pure, più semplici, meno invadenti. Gli ambienti affollati, quindi, non sono semplicemente luoghi da evitare, ma scenari complessi in cui l'empatico deve imparare a navigare con saggezza. È un equilibrio delicato tra l'essere presenti e il proteggersi, tra il vivere il mondo esterno e il mantenere il proprio spazio interiore intatto. E mentre questa esperienza può essere una sfida, è anche una delle chiavi per comprendere la profondità del proprio dono empatico. 3. Sei un ascoltatore naturale? Un empatico possiede una qualità rara e preziosa, l'arte di ascoltare. Ma non si tratta solo di prestare attenzione alle parole altrui. Gli empatici vanno ben oltre, immergendosi completamente nell'esperienza dell'altro, creando uno spazio sicuro dove l'interlocutore si sente veramente visto e compreso. Quando un empatico ascolta, lo fa con tutto il suo essere, non solo con le orecchie. Immagina di sederti accanto a un empatico e iniziare a parlare dei tuoi problemi, delle tue gioie o delle tue paure. Da subito, senti che qualcosa è diverso. Non è solo una questione di parole, ma di presenza. L'empatico non si limita a udire quello che dici. Percepisce anche ciò che non viene detto, le sfumature delle emozioni che scorrono sotto la superficie. È come se, senza neanche ti accorgi, ti stesse leggendo l'anima. Ogni gesto, ogni silenzio, ogni esitazione viene colta e compresa. Questa capacità di ascolto va oltre la semplice empatia intellettuale. È una connessione emotiva profonda. L'empatico è in grado di rispecchiare i sentimenti dell'altro, di fare eco a quelle emozioni con una comprensione che non necessita di spiegazioni. È un processo silenzioso, quasi magico, che avviene al di là delle parole, in un territorio dove le anime si incontrano e si comprendono senza bisogno di intermediari. Essere ascoltati in questo modo può essere un'esperienza trasformativa. Per molte persone, parlare con un empatico significa sentirsi finalmente compresi, spesso per la prima volta. È come se ogni barriera cadesse, permettendo una comunicazione autentica, libera dai filtri del giudizio o dell'incomprensione. Questo tipo di ascolto ha il potere di guarire, di portare luce in angoli bui dell'anima, di sollevare pesi che magari si portano dietro da tempo. Ma per l'empatico, questa esperienza può essere intensa e, a volte, faticosa. Assorbire le emozioni altrui richiede una grande quantità di energia e farlo ripetutamente può lasciare l'empatico esausto, come se avesse dato via una parte di sé in cambio della comprensione dell'altro. È un atto di generosità che richiede una gestione attenta delle proprie risorse emotive. Tuttavia, nonostante la fatica, gli empatici spesso trovano una profonda soddisfazione in questo ruolo. Sentono che il loro dono non è solo un fardello, ma una missione, un modo per portare un po' di sollievo, di conforto, di guarigione nel mondo. E così, continuano ad ascoltare, a offrire quella comprensione che solo loro possono dare, sapendo che in quel momento stanno facendo qualcosa di straordinario. Stanno permettendo agli altri di sentirsi veramente vivi, veramente visti, veramente compresi. 4. Hai una connessione profonda con la natura? Per un empatico, la connessione con la natura va oltre il semplice apprezzamento estetico. Non si tratta solo di ammirare un paesaggio o di godere della quiete di una foresta. È un legame profondo e ancestrale che si sente a livello dell'anima. Essere immersi nella natura per un empatico è come tornare a casa, a un luogo dove tutto è in armonia, dove le energie sono pure e incontaminate, dove ogni respiro sembra allinearsi con il ritmo stesso della terra. Quando un empatico si trova in mezzo alla natura, avviene qualcosa di magico. Il fragore e il caos del mondo moderno si dissolvono, lasciando spazio a una pace interiore che è difficile trovare altrove. Le energie disordinate che si assorbono negli ambienti urbani o affollati vengono lavate via, sostituite da una serenità che nutre lo spirito. È come se ogni albero, ogni ruscello, ogni soffio di vento parlasse direttamente all'anima, rassicurandola, riempiendola di un senso di appartenenza e di equilibrio. Gli empatici spesso trovano conforto in luoghi dove la presenza umana è minima e la natura è sovrana. Camminare su un sentiero di montagna, sentire la terra sotto i piedi, ascoltare il canto degli uccelli o il rumore delle foglie mosse dal vento sono esperienze che vanno oltre il piacere sensoriale. Sono momenti di connessione profonda, in cui l'empatico riesce a sintonizzarsi con le vibrazioni della terra stessa. È in questi luoghi che l'empatico può veramente ricaricarsi, lasciando che la natura purifichi le energie assorbite, restituendogli la propria forza interiore. Questo legame speciale con la natura può manifestarsi in molti modi. Per alcuni è un richiamo costante, un bisogno irrinunciabile di ritirarsi nei boschi, di camminare sulla spiaggia o semplicemente sedersi sotto un albero per sentirsi di nuovo centrati. Per altri è un sentimento che emerge solo in certi momenti, quando il peso delle emozioni e delle energie accumulate diventa troppo da sopportare. In quei momenti la natura diventa un rifugio, un luogo dove poter respirare liberamente, dove l'anima può espandersi e rigenerarsi. L'empatico, immerso nella natura, riscopre il proprio equilibrio, il proprio ritmo naturale. Lontano dalle distrazioni e dalle sovrastrutture della vita quotidiana, è in grado di ascoltare se stesso con maggiore chiarezza, di sentire i propri bisogni e desideri senza il rumore di fondo delle energie altrui. Questo legame non è solo una fonte di ricarica, ma anche di ispirazione. La bellezza e la perfezione della natura ricordano all'empatico la propria essenza, la propria capacità di vedere e sentire il mondo in modo unico e profondo. In questo senso, la natura non è solo un luogo fisico, ma uno spazio sacro, un santuario dove l'empatico può riconnettersi con se stesso e con l'universo. È un incontro con qualcosa di più grande, qualcosa che parla direttamente al cuore e all'anima, ricordando all'empatico chi è veramente e quale sia il suo posto nel mondo. Questa connessione con la natura è uno degli aspetti più preziosi dell'essere empatico, una fonte di forza, di pace e di rinnovamento che continua a nutrire e sostenere l'empatico lungo il suo cammino. 5. Le ingiustizie ti fanno arrabbiare? Per un empatico, l'ingiustizia non è solo un concetto astratto o un evento distante. È un'esperienza visceralmente sentita, un dolore che penetra nel profondo e scuote l'anima. Quando un empatico si trova di fronte a un ingiustizia, non può semplicemente distaccarsene o ignorarla. È come se percepisse ogni singola ferita, ogni sofferenza inflitta, e la sentisse come propria. Questo legame emotivo con l'ingiustizia è qualcosa che nasce dalla stessa natura empatica, la capacità di sentire le emozioni degli altri con una tale intensità da renderle parte di sé. Quando qualcuno subisce un torto, l'empatico non vede solo un'azione sbagliata, vede la ferita che quell'azione provoca, la sofferenza che infligge, e sente l'impulso irrefrenabile di intervenire, di fare qualcosa per alleviare quel dolore, per ristabilire l'equilibrio. Per un empatico, l'ingiustizia è un disordine dell'anima, una dissonanza che grida di essere corretta. Non importa se si tratta di una piccola ingiustizia quotidiana o di un grande atto di oppressione. L'effetto è lo stesso. L'empatico sente il bisogno di agire, di usare la propria voce e il proprio cuore per cercare di riparare il danno. Questo può manifestarsi in molti modi. Un'empatica indignazione, una lotta per i diritti altrui, un impegno a stare al fianco di chi è stato danneggiato. È come se una forza interna, quasi primordiale, lo spingesse a non rimanere passivo di fronte a ciò che è sbagliato. Tuttavia, questo coinvolgimento emotivo ha un costo. La costante esposizione all'ingiustizia può lasciare l'empatico esausto, svuotato e a volte disperato. Il peso di voler cambiare le cose, di voler alleviare il dolore del mondo, può diventare schiacciante, soprattutto quando si confronta con la complessità e l'entità delle ingiustizie che esistono nel mondo. Ma anche di fronte a questa fatica, l'empatico non può semplicemente voltarsi dall'altra parte. C'è una sorta di responsabilità morale che sente di dover portare avanti, una chiamata che non può ignorare. Questo senso di giustizia è profondamente radicato nel cuore di un empatico. Non si tratta solo di un desiderio di fare del bene, ma di una necessità di vedere il mondo in armonia, di sapere che c'è equità, che ogni persona viene trattata con dignità e rispetto. L'empatico vive con una consapevolezza acuta delle connessioni tra le persone, e quando una di queste connessioni è infranta o distorta dall'ingiustizia, la percepisce come un dolore fisico, un disordine che deve essere sanato. In questo impegno verso la giustizia, l'empatico trova anche la propria forza. È un cammino difficile, spesso solitario, ma è anche ciò che dà senso alla sua esperienza emotiva del mondo. È un modo per trasformare la propria sensibilità in qualcosa di potente, per utilizzare quella capacità di sentire il dolore altrui come una spinta verso l'azione, verso il cambiamento. Questo profondo legame con la giustizia fa sì che l'empatico sia spesso al fianco dei più deboli, dei più vulnerabili, di coloro che hanno bisogno di una voce che li rappresenti. E in questo, l'empatico scopre la propria missione, non solo sopravvivere in un mondo che può essere duro e spietato, ma contribuire a renderlo migliore, più giusto, più compassionevole. 6. Hai bisogno di spazi personali? Per un empatico, il confine tra il sé e l'altro può spesso diventare sfocato, una linea sottile che si dissolve nelle emozioni condivise. Questo avviene perché l'empatico possiede una sensibilità così acuta, una capacità di entrare in sintonia con gli altri così profonda, che spesso finisce per assorbire non solo i sentimenti, ma anche le energie e le vibrazioni delle persone intorno a lui. Ecco perché gli empatici, a volte, faticano a distinguere tra ciò che provano realmente e ciò che invece hanno interiorizzato dagli altri. Questo processo di assorbimento energetico è talmente naturale e spontaneo che l'empatico può non rendersi conto immediatamente di cosa sta accadendo. Potrebbe accadere dopo una conversazione con una persona che sta vivendo un momento difficile o dopo essere stato in un ambiente carico di tensione. Senza saperlo, l'empatico porta con sé quelle emozioni e quelle energie, che iniziano a mescolarsi con le proprie, creando una sorta di confusione interna, una sensazione di sovraccarico emotivo. Questo continuo scambio energetico può portare l'empatico a sentirsi sopraffatto, come se stesse vivendo in una nebbia di emozioni e sensazioni che non riesce a decifrare completamente. È una sorta di sovraccarico sensoriale che può manifestarsi come stanchezza, ansia o addirittura come un malessere fisico. Eppure, nonostante la fatica che questo comporta, l'empatico non può fare a meno di essere aperto agli altri. È una parte intrinseca del suo essere, una qualità che definisce chi è. Imparare a riconoscere e a gestire questa fusione energetica è una delle sfide più grandi per un empatico. Significa sviluppare la consapevolezza di quando si sta assorbendo troppo, di quando le emozioni degli altri stanno iniziando a intaccare il proprio equilibrio interiore. È un lavoro sottile, che richiede una grande sensibilità e una profonda conoscenza di sé. L'empatico deve imparare a proteggersi, a creare dei confini energetici che lo aiutino a mantenere la propria integrità emotiva, senza per questo chiudersi al mondo. Questa protezione non è un atto di egoismo, ma di necessità. È il riconoscimento che, per poter continuare a dare e a condividere, l'empatico deve anche prendersi cura di sé stesso, deve trovare il modo di ricaricare le proprie energie e di distinguere tra ciò che è suo e ciò che appartiene agli altri. È un equilibrio delicato, ma essenziale, per vivere in armonia con il proprio dono. Quando riesce a trovare questo equilibrio, l'empatico scopre una nuova forza interiore, una capacità di navigare nel mondo con una maggiore consapevolezza e serenità. Impara a usare il suo dono in modo più efficace, a essere presente per gli altri senza perdere se stesso nel processo. E in questo percorso di crescita e di autocomprensione, l'empatico non solo migliora la propria vita, ma diventa anche una guida, un faro di luce per chiunque si trovi a camminare su sentieri simili. Questa fusione energetica, quando ben gestita, diventa non solo una fonte di empatia e compassione, ma anche un potente strumento di guarigione e di connessione profonda con l'universo e con le persone che lo abitano. Essere empatici è un dono profondo e potente, che permette di connettersi con gli altri e con il mondo in modo unico. Ogni sfumatura, ogni emozione percepita, ogni energia assorbita fa parte di un viaggio interiore che porta a una comprensione più profonda di sé e degli altri. Ma questo viaggio, seppur ricco di significato, può essere anche impegnativo. Richiede attenzione, cura e la capacità di trovare un equilibrio tra l'apertura al mondo e la protezione del proprio spazio interiore. Per continuare a esplorare queste tematiche e crescere insieme in questa scoperta, è fondamentale rimanere connessi. Su Whispers of Wisdom ci dedichiamo a portare luce su questi aspetti, condividendo conoscenze e riflessioni che possono arricchire il tuo cammino. Iscriviti al canale, attiva la campanellina per non perdere nessuno dei nostri contenuti, lascia un like se hai trovato valore in questo video e condividilo con chi pensi possa trarne beneficio. Ogni commento è un'opportunità per creare dialogo, per condividere esperienze e per sostenersi a vicenda in questo viaggio di crescita. Il tuo supporto è essenziale per continuare a diffondere saggezza e consapevolezza. Grazie per essere parte di questa comunità.